Un cambiamento si può fare in maniera etica o in maniera non etica, visto che l'elite che tira i fili del mondo ha deciso di farlo in maniera non etica e allora vuole fare sparire centinaia di migliaia, se non milioni di posti di lavoro, senza pensare a ricollocare queste persone, senza pagare pegno, ma mantenendole eventualmente con un'elemosina statale che verrà elargita in cambio di cieca obbedienza, Come fa a fare tutto questo senza subire una rivolta da parte della massa inferocita? Semplicemente facendo credere alla massa che questo cambiamento e fatto in questo modo qua è fortemente voluto dal basso e allora ecco che entrano in gioco gli influencer, Greta Thunberg, i ragazzi di ultima generazione, loro spingono perché il cambiamento si faccia e si faccia veloce E poi Beppe Grillo che torna in campo e dice al popolo che la battaglia che va fatta è quella per il reddito universale. Fantastico!